Il vecchio mondo sta morendo, quello nuovo tarda a comparire e in questo chiaroscuro si risiede, immobili. Il vecchio mondo soffoca, quello nuovo nasce accogliendo il conflitto. A noi il ruolo di rendere il presente un problema della storia, affinché a noi appartenga ogni cosa di questa realtà potenziale onnipresente e violenta, prima che tutto finisca in cenere. Cosa fare dunque prima della fine? Prima della fine dobbiamo infettare tutte le persone intorno a noi di speranza radicale. Cosa fare prima della fine? Prima della fine dobbiamo lottare per un mondo più giusto, con tutte le energie che abbiamo in corpo. Fino alla fine dobbiamo sapere di aver fatto abbastanza. Dopo la fine non ci sarà tempo per i rimpianti. Dopo la fine non ci sarà tempo. Tutto si dilanierà e dilaterà alla prima persona cara che perderemo, per un ubifraggio o un incendio, per una guerra, per le risorse. E quando queste morti si moltiplicheranno e quando toccheranno a noi? La fine è la capitolazione del nostro mondo di certezze. È il tetto della nostra casa che vola via. La fine è prima di tutto la fine per noi, la nostra personale apocalisse. È il vuoto della possibilità, ma dove la volontà non avrà più posto. Prima della fine vorrei sapere che quantomeno siamo insieme da questa parte della barricata. Che quello che sentiamo come giusto e urgente non è solo un impeto, un graffio in questo mondo di specchi, ma la consapevolezza profonda che un altro mondo non è solo possibile, ma necessario. Collettivizziamo le nostre apocalissi personali. So che perderemo molto, ma so che nella lotta collettiva c'è l'unico seme significante. Qualche settimana fa, alla marcia climatica che chiedeva ai riflettori della mostra del cinema di Venezia sul collasso climatico, i riflettori sul collasso, chi detiene il potere nel nostro paese ha risposto con violentissima acqua. Durante l'emergenza idrica, notate bene all'inizio dell'emergenza idrica, chi chiede di sopravvivere, chi è in lotta per la vita, riceve manganellate, idranti e repressione. Fuori e dentro i movimenti, come è lecito, ci si interroga. Ci si domanda se stiamo usando la strategia giusta, no così no, così abbiamo perso in passato, così non ci ascoltano, così non facciamo in tempo. Continuiamo a chiederci come riuscire ad arrivare, come riuscire ad agire in tempo, affinché l'imminente collasso climatico, il conseguente collasso politico, sociale ed economico, possa essere arrestato e ci domandiamo, così no, così non va bene. Dal G8 di Genova, quando ci avete picchiati e ammazzati, noi continuiamo a chiedere giustizia climatica. E vedete, non importa che io allora, come è il caso, avessi sei anni, perché noi allora eravamo la stessa gente, continuiamo a chiedere giustizia climatica contro il capitalismo della morte che ha reso questo pianeta invivibile. Contro la vostra violenza istituzionalizzata, contro le stragi di Stato, contro la vostra inazione, contro la vostra condanna a morte, ai popoli liberi di tutto il mondo, agli animali non umani di tutto il pianeta, agli ecosistemi. Perché avete paura? Perché la verità è che non sapete come arrestare questa macchina mondiale mortale che voi avete innescato. Perché non siete nulla e tuttavia noi da questo nulla dipendiamo. E tuttavia a voi, padroni del vuoto, noi dobbiamo rispondere. E se perdessimo? Stiamo comunque perdendo tutto. Costretti nei nostri miseri lavori precari fino al giorno del giudizio universale. Verrà giudicato il nostro sacrificio, la nostra vehemenza, la nostra volontà di resistere per tutto ciò che ha significato. Perché quanto ci sta intorno adesso non ne ha. Tutto muore e noi siamo immobili. E magari fossimo davvero immobili. Magari potessimo rimanere al punto di collasso climatico dove siamo ora, congelarci qui. Ci risparmieremo milioni di morti. Tratteniamo il respiro in sala, insieme. Uno, due, tre. Trattenete il respiro. Se trattengo il mio respiro abbastanza a lungo, tutto rimarrà immobile. Preferisco una foglia congelata in aria che vedervi affogare. Non ho voglia di vedervi bruciare nel fuoco. Tengo la mia casa, soprattutto tengo i miei libri. Mi è simpatica la mia vicina di casa ed era bello andare in spiaggia d'inverno. Non voglio sentire i vostri lamenti democristiani, voglio sentire la musica in cuffia a palla. Fino alla fine rimarremo tutti connessi, fino alla fine ci adatteremo. Ora emergenza idrica regionale, poi nazionale, poi mondiale, poi cibo razionato, poi questo, poi quello. Dobbiamo solo trattenere il respiro e tutto rimarrà immobile. Verrà alla fine, non avrà occhi per guardarci. Ci vuole coraggio a farlo e noi non l'abbiamo fatto, non ci siamo guardati, non abbiamo avuto coraggio. Tutto muore e noi rimaniamo connessi. Tutto muore e noi rimaniamo nel mezzo, nelle pozze mediocre di queste verità posticce. Potrei soffocarvi uno a uno con la rabbia che ho dentro, ma da questa rabbia invece vi dono semi e coltelli. Scavate fosse a tutto quello che è stato finora e unitevi alla lotta. Collettivizzate la vostra apocalisse personale. Risiedete nella speranza radicale. Chiedetevi cosa siete disposti a sacrificare affinché i nostri mondi non collassino. E non parlo, ahimè, di cuocere la pasta a fuoco spento, parlo di usare i nostri privilegi e i nostri corpi in queste cosiddette democrazie occidentali per schierarci, per esempio, al fianco dei popoli indigeni che vivono un'apocalisse climatica dall'inizio del colonialismo e da quel giorno resistono. Chiedetevi cosa di voi è davvero vostro, chiediamoci cosa di noi è davvero nostro. Cosa ci appartiene, tolti i fronzoli consumistici che ci hanno convinto che questo imperio di oppressione e di estrattivismo è l'unico dei sistemi possibili. Facciamo un po' di pulizie di primavera prima di questi autunni caldi. Sei autunni prima di toccare il punto di non ritorno, sei autunni per appartenere alla storia. Scaviamo dentro di noi e troviamo spazio affinché germogli qualcosa di nuovo, perché qui, nell'aria, c'è speranza radicale. Nelle storie di chi resiste la Terra c'è l'unico futuro possibile. Resistere è la nostra natura. Noterete che in questo discorso ho usato in maniera, vi dico consapevolmente abbastanza confusa, il voi e il noi. Perché? Perché mi rendo conto che l'identificazione della parte in cui risiediamo è complessa ed è una scelta di fatto giornaliera. E quindi credo e vi invito, ci invito, a tracciare ogni giorno una linea, a costruire ogni giorno una barricata rispetto al nostro senso morale, rispetto a quello che secondo noi è giusto, chiedendoci se in questo sistema siamo complici o no e chiedendoci se stiamo facendo abbastanza. E forse un giorno quello che stiamo perdendo adesso, e se ci giriamo ci sembra ancora di poterlo vedere, ci sembra di poterlo sfiorare con la mano, e forse un giorno questo ci verrà restituito. Niente rimarrà immobile, tutto muore anche se tratteniamo il respiro. Che venga la fine dunque, le dono i miei occhi. Grazie. 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 Grazie.